Ciao come ti chiami? Raffaele Dabroska. E di dove sei? Cerratina di provincia di Pescara. Va bene, Cerratina provincia di Pescara, un paese che sta vicino Pescara. Quanti anni hai? Sette anni. E che vuoi fare da grande? Il batterista. E allora dobbiamo suonare? Sì. E suoniamo, abbiamo due batterie, dai. Sì. E suoniamo, abbiamo due batteri, dai. Sì. E suoniamo. Sì. E suoniamo. Bravo Raffaele, allora salutiamo tutti. Andiamo a rivederci al prossimo video. Ciao a tutti da Massimiliano e... Ciao da Raffaele Dabroska. Ok, ma tu pensi positivo? Sì. Allora, pensa positivo. Vai. Ciao. Ciao.